Peppe Cargiulo, c'è chi lavora per te e per i tuoi figli, giusto? Si, è l'unico che mi dà una mano, è Peppe Cargiulo Pomerang, della lista di senso. Tutto anonimo? Il mio anonimo, è l'unico. Quindi invalidità al 100%? Mi dispiace, sapevo che portavo il verbale, perché io sono l'unico che non mi ha cacciato soldi per avere quel verbale. E prendi 200? 200, come regola, fossero 2,70, però dato che c'è una mora sopra, non erano due e vinto. O mangi, o paga la luce, o paga la luce, o paga l'acqua. C'ho 2.000 euro di acqua da pagare. Tu cerchi quindi un aiuto, anche un lavoro? E anche un lavoro, se posso fare un lavoro, non lo so, un aiuto... Lavoro per te e per i tuoi figli? Eh, per mia moglie, per i figli miei, se c'è qualcuno che... Si passa la mano per la cucina, ci vogliamo salvare la famiglia Cargiulo di Bianchi, il numero di cielo. E se c'è qualcuno a Sant'Agnara? E' Dintorno? Va bene, grazie.